in un campo io sono l'assenza di campo questo è sempre opportuno dovunque sono io sono ciò che manca quando cammino divido l'aria e sempre l'aria si fa avanti per riempire gli spazi che il mio corpo occupava tutti abbiamo delle ragioni per muoverci ed io mi muovo per tenere assieme le cose